La moto che abbiamo qui con noi oggi è tenere 700 World Raid. I punti di forza di questo modello sono innanzitutto una più spiccata vocazione per l'off-road ed è per questo che abbiamo sospensioni più performanti all'anteriore e al posteriore, abbiamo un ammortizzatore di sterzo Hollins e abbiamo una maggiore altezza da terra. Quello che abbiamo cercato di fare con questo modello è coniugare di fatto due anime, un'anima più orientata al racing e anche un'anima più orientata ai viaggi-avventura ed è per questo che abbiamo un serbatoio di ampia capacità di 23 litri che garantisce un'autonomia significativa per questo tipo di utilizzo. L'idea della Tenere 700 World Raid era già nell'aria quando abbiamo lanciato la Tenere 700 e poi è stata presa in considerazione per lo sviluppo dopo che abbiamo raccolto i primi feedback dal mercato. I feedback in merito alla Tenere 700 sono stati estremamente positivi sin dall'inizio. I clienti hanno subito apprezzato le caratteristiche off-road della moto che la distinguevano nettamente dagli altri competitor.